Giuliano Gallanti che è stato veramente un ottimo presidente dell'attività portuale, un uomo di grandi conoscenze in questo settore, di grande competenza e anche di grande umanità. Lo ringrazio. Con questo intervento si prevede anche un aumento dell'occupazione, abbiamo una prospettiva importante. Ora io non tengo il pallottiere dell'occupazione, anche se a volte si deve. Naturalmente questo indurrà un aumento dei traffici, per quella ragione che prima dicevo, cioè che nella logistica ciò che conta è la velocità, ciò che conta è superare i tempi. Poi siccome io sono in Tusco, aggiungo anche che bisogna far cessare la bellezza delle navi alla rada. Cominciamo un po' alla bellezza delle navi in rada e vediamo le navi che mi avviene di scaricare. Anche questo è un problema di velocità. Perché se mellume mi convince più di un semplice ritorno proporzionale, consente le coalizioni, la un maggioritario contenuto, non è un eccessivo, il torcello come l'Italico, consente anche alle forze politiche di avere una rappresentanza proporzionale. Ma perché a volte capita che suonano i ritardi un po' perché non è dura, non è dura, non è fatta bene. C'è afflizione? No, 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 io e il ministro del Rio ci inviamo sul porto e non soltanto sul porto. Quindi è imminente? Sì, penso proprio di sì. Si risolverà questo stallo che so che ha creato qualche problema, ma si sa che era bene risolverlo. Bene. No, ci sono.